Buonasera mister, una delle migliori prestazioni stagionali da parte della squadra con una pressione costante sugli avversari, è d'accordo? Sì d'accordo anche se magari nel secondo tempo non siamo stati così chiari nel gioco e quindi abbiamo fatto un po' di confusione, la confusione magari ha favorito il Venezia che si è difeso con ordine. Il vantaggio era già meritato nel primo tempo, avete stabilito tra l'altro il record di tiri in porta nella prima frazione e creato anche qualche buona occasione, è mancato il guizzo decisivo sotto porta? Sì è mancato quello però è anche vero che in queste partite c'è anche il rischio in un contropiede di subire gol perché il Venezia ha dei giocatori, tanto sono molto bravi, coprono bene il campo, poi hanno dei giocatori in avanti che comunque ti possono mettere in difficoltà. Sì è mancato, magari altre volte abbiamo fatto uno o due gol creando molto molto meno, oggi abbiamo creato tanto tanto di più e non abbiamo fatto gol. Le avete provate tutte, il pallone sembrava proprio non volere entrare, stavolta però avete subito poco le iniziative degli avversari e per la prima volta avete mantenuto la porta inviolata. Questo è un dato buono che ci deve dar forza per fare quello che per me è fondamentale, avere una compattezza, una solidità quando gli altri hanno la palla, quindi equilibrio e quando hai la palla con chiarezza cercare di mettere in difficoltà e creare occasioni per provare a vincere la partita. Resta la mano in bocca per una partita che non ha premiato gli sforzi fatti? Sì, rimane il dispiacere perché magari oggi il Genova meritava di vincere per la partita fatta, però intanto alla fine poi hai quello che ti meriti, quindi non siamo preoccupati per questo. Adesso la trasferta nell'anticipo di venerdì a Empoli contro un'altra avversaria diretta, un altro incontro che vale doppio. In questo momento l'Empoli mi pare che non sia una avversaria diretta perché fa dei risultati straordinari, hanno un calcio consolidato, quindi lo stanno facendo benissimo e sarà un bel esame anche quello per noi. Grazie mister. Grazie a voi.